salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi stiamo con Filippo Rispoli che lo intervisteremo in questo format diciamo podcast ambulante perché sono in trasferta mi devo preoccupare beh se mi conosci mi editi qualcuno direbbe ok allora rimango allora rimango bravo only the brave quindi ora faremo un'intervista ci saranno delle inquadrature diverse una solo per lui e una solo con me quindi è una cosa nuova e adesso iniziamo ciao Filippo intanto come stai benissimo molto bene contento di questa intervista qui siamo a Prato in una palestra a Ginasio dove ho fatto un workshop recentemente quindi ti ho invitato per questa intervista so che tu sei di Montecatini si molto vicino infatti un quarto d'ora ero già qua bello presente ok intanto per chi non ti conosce nel mio canale e chi non ha mai sentito parlare del team commando chi è Filippo Rispoli allora quindi associamo subito team commando a Filippo Rispoli sicuramente ho fatto parte di questo team oramai fino a 5-6 anni fa se la memoria non mi inganna abbiamo fatto una bellissima esperienza insieme un sacco di video un sacco di situazioni e il team commando aveva la voglia di far conoscere un po' ai ragazzi anche molto giovani quello che è il bodybuilding la voglia di allenarsi di essere in forma e con contenuti che insomma non sono io a dirlo sono stati un po' copiati poi da tantissimi altri format che adesso vedo che girano per la rete però alcuni format li introducemmo noi tipo la spesa del bodybuilder oppure altre cose molto molto carine interessanti quindi sei stato un precursore diciamo dal punto di vista del team dei personaggi sì diciamo che sono stato giustamente catapultato in questo mondo quasi a mia insaputa perché non sapevo nulla di social cioè per me non era tutto molto arabo e mi chiamarono per far parte di questo team io accettai subito la cosa mi piacque molto e poi abbiamo passato del bel tempo insieme andavamo a rimini wellness abbiamo fatto un sacco di viaggi un sacco di esperienze c'era anche una bella magma tra noi tre che eravamo gli attori appunto protagonisti di questo team per chi non conosceva il cast da chi era composto vado a memoria se loris fornaggiari che era un po il power lifter di turno chiamiamolo così poi c'era natan lelli war machine war machine si calistenico e lottatore per cui faceva anche graffing un sacco di cose e tu eri un po il bodybuilder io ero il bodybuilder del gruppo ed eri anche leader mi diedero questo pseunonimo ma non c'era un vero e proprio leader però mi diedero questo nome di team leader sicuramente quindi eri diciamo il personaggio di stark iron man ero il personaggio aditato da quello che doveva prendersi più insulti quello che doveva dire certe cose non dico il personaggio di punta perché non ero personaggio di punta ero il personaggio un po più in vista dei tre per alcuni tipi di contenuti che riuscivo a portare come è nato questo gruppo nel senso chi è che ha deciso le varie ma sicuramente l'ha deciso chi è a capo del team commando quello che non era nostro il team ovviamente noi avevamo gli attori principali di questo bel progetto perché team commando non ne ho idea questo non ne ho nessun tipo di idea però il nome perché no accattivante poi nel tempo siete cambiati come allora io lasciai io lasciai poi onestamente ci ho anche guardato poco so che hanno cambiato molte volte la squadra e insomma non sono io a dirlo ma il pubblico lo dice che insomma la prima squadra quella un po più posso dire la migliore a quella che funzionava meglio per tanti tipi di aspetti ecco questo sicuramente poi ecco da quello che so in questo momento è fermo però chi lo sa magari potrebbero esserci sviluppi che vedremo fra qualche mese insomma io devo dire che la prima volta che ho sentito parlare di te è stato sul gruppo gym lemon interessante che era un gruppo che prendeva in giro un po tanti personaggi del fitness come fede rossi e tanti altri e tu finivi spesso preso di mira per alcune tue citazioni o due due video che parlavi di fitness in generale certo un po per anche per il tuo aspetto fisico per il fatto che avevi questa mascella molto da giga chad come si dire oggi no e molti ti accusavano ovviamente di doping o di gh no che ti viene quella mascella a cosa rispondi a queste cose dico che a me questa cosa ha fatto un sacco di piacere da un certo punto di vista che mi ha portato da dove volevo cioè tutte queste mie citazioni la gente pensa che siano state frutto del caso ma sono state ovviamente preparate a tavolino prima quindi sono io che ho diretto i fili ovvio che laddove poi andiamo sulle diffamazioni o su dei casi che di cui abbiamo parlato anche fuori dalla telecamera su quelli non voglio neanche parlarne insomma ecco ma ti fa pensare nel senso che non ti sei mai dichiarato nel natura nel dopato allora su quel tipo di situazione sai tu devi farvi capire questo nel momento che tu fai parte di un team il team non è tuo tu devi seguire le regole di chi questo canale lo ha messo su non puoi fare portare le tue regole in casa di qualcun altro quindi se tu sei una sorta di dipendente chiamiamolo così di persona che collabora per questo tipo di team se ti viene detto di dire un certo tipo di situazione o di non dire o di omettere tu devi sottostare a quelle regole se vuoi fare parte di quel team sennò te ne esci come poi ho fatto quindi ti vietava di no nessuno mi vietava ma c'era un certo tipo di comunicazione che portava a dire delle cose o metterne delle altre questo sicuramente però ecco non ho nessun tipo di problema nel dire ed oggi come ti dichiari natural o drag free? ah perché adesso c'è questa dicitura ai miei tempi c'era solo natural ora siamo andati ancora più nello specifico se vuoi ti spiego la distinzione drag free non ho mai fatto niente si uno che non ha mai assunto sostanza perfetto quindi fino a me fino al 2000 quasi 2010 2009 2010 avevo 24 23 24 anni in questo momento sono natural già da sei mesi ok e quindi questa è la mia la mia dicitura cioè natural è quello che praticamente in questo momento è pulito ma non vuol dire che non abbia usato in passato assolutamente se ti facessero un test saresti pulito assolutamente sì quindi no trt non per me pulito vuol dire fermo cioè nel senso ma tu hai fatto bodybuilding aconistico assolutamente sì allora io ho iniziato con l'amore della palestra prima ero molto grasso come tutti come tutti poi dopo ho visto che riuscivo comunque a migliorare molto fisicamente sono diventato molto ossessionato cioè andavo tutti i giorni in palestra fissato con la dieta un po come i ragazzini quando passano da un estremo all'altro no però sempre natural assolutamente natural però ti assicuro che dal quando ho 17 anni che mi accusano di non essere natural e con l'intelligenza stupida di un diciassettenne prendevo queste cose come un affronto personale perché dal mio punto di vista mi vedevo che allenavo 6-7 volte la settimana non sgarravo mai ero molto ligio facevo tutti i pasti andavo quando devo andare a fare il weekend con la ragazza portavo due valigie la prima era di vestiti e di integratore la seconda era solo di cibo quindi ero molto ossessionato non che questo facesse bene guarda molti dicono l'ossessione batte il talento secondo me hanno ragione non è una cosa sbagliata anche se nel nostro mondo ci sono gli estremismi no purtroppo che portano anche alla morte o portano altre problematiche io non mi considero assolutamente fortunato geneticamente perché pure a vederti chi mi conosce da quando io ero veramente giovane sa che ho le spalle molto stretto e come mi dicevano il gluteo molto largo quindi sembrava una sorta di pera quindi sicuramente sicuramente a livello scheletrico non sono assolutamente fortunato sono abbastanza fortunato essendo stato grasso da piccolo ad avere facilità di acquisire massa muscolare ok ho poi capito che questa stessa facilità che avevo da natural non c'era assolutamente nel momento che sono andato ad assumere prodotto una scarsissima capacità recettoriale quindi questo poi l'ho visto subito è stata la mia intelligenza quello non andare oltre perché capisci subito quelli che sono i tuoi limiti però io ti vedo oggi e sei super in forma a livello di volumi e ti ho visto anche in un recente video in canotta cioè tu da natural comunque hai mantenuto buone masse io mi alleno tutti i giorni cioè per me la mente la mia vita cioè mi piace se non mi alleno sbrocco qual è la tua parte fisica diciamo predominante gara mi dicevano la schiena adesso mi dicono magari spalle petto io mi ricordavo per le tue mammelle di questi capezzoli che sembravano quasi da farsi mungere purtroppo purtroppo tu lo stai descrivendo in un modo molto interessante però sicuramente non è né ginecomastia né lipomastia no no non dicevo semplicemente sono proprio nato così di questa cosa piccola mi creava anche un po di problemi sai veniva un po additato un po preso in giro come anche che purtroppo succede non è la cosa giusta ma purtroppo succede c'era molta meno attenzione nel body shaming quanto ne abbiamo adesso non frega proprio niente al volo dimmi un po di dati antropometrici tipo altezza peso allora 184 più o meno adesso sono 107 kg se non sbaglio perché non mi peso mai però più o meno dovrei essere sui 107 braccio ovvero 47 bf stimata non ne ho idea io quelle robe via impedenziometria di cometria per me sono robe che non dovrebbero neanche esistere per me conta lo specchio e come noi ci vediamo sì perché poi quando sul palco non ti guardano le misure corporee assolutamente no però più o meno richiesta una certa bf più o meno sì io comunque anche per chi alleno dico sempre che non bisogna mai eccedere perché poi dopo la crescita muscolare viene assolutamente limitata da quello che un grasso in eccesso non è questione di estetica proprio una situazione di quanto il nostro corpo percepisce il miglioramento non li percepisce e riesce quindi a crescere se te da natural o meglio drag free quanto saresti potuto arrivare a pesare un centinaio tranquillamente anche forse qualcosa di più perché vedo alcuni miei amici quanto sono io nel 2009 ho vinto una gara a 86.6 sul palco avevo 23 anni completamente drag free era una competizione natural non era una competizione natura era la guabba chiaro e non era la competizione natural ok però decisi volutamente di fare quel tipo di competizione per una mia sfida personale perché obiettivamente nelle altre vincevo molto facilmente ok e poi lì segno il passaggio quella gara dopo qualche mese decidi di fare poi la scelta di entrare in un altro tipo di parrocchia ma fuori gara ero 95 kg comunque in forma e avevo 23 anni se mettiamo questi 23 anni altri 14 anni allenamento e non 37 adesso penso che più di 100 kg sarei potuto arrivare tranquillamente ma perché se eri comunque abbastanza piazzato da natura hai deciso di fare quel passo perché quando vuoi andare a 50 all'ora vuoi andare a 100 purtroppo che non è giusto ovviamente cioè oggi te ne penti lo rifaresti o pentirsene no perché non ho avuto fortunatamente dei side effect da dire è stato qualcosa di brutto però sicuramente tornando indietro probabilmente non lo farei perché l'ho detto più volte anche se poi vengo additato per questa situazione però mi vedevo molto meglio fisicamente quando non mi facevo rispetto a dopo tornando indietro non lo rifarei però non è che me ne penta dire rinnego quello che ho fatto perché questo questo assolutamente no non so se l'hai già detto in passato hai dichiarato di avere un assunto se hai assunto cosa hai assunto rimanevo l'altro giorno sconcertato ero a far visita un mio amico a bologna e parlando con lui di più del meno mi rendo conto che anche sotto questo aspetto siamo andati talmente oltre che critico molte volte questa domanda natural drag free perché si pone l'accento solo su questo tema però è anche vero che questo sdoganamento di social e questa capacità di informazioni che hanno i ragazzi questo coming out è purtroppo però anche questa facilità di trovare informazioni di steroidi che hanno i ragazzini che noi non avevamo assolutamente cioè noi si fermavamo ai prodotti base l'altro giorno mi hanno detto dieci prodotti che non so neanche come si scrivano che roba siano e chi mi li ha detti mi ha detto guarda sarebbe meglio che tutti prendessi dei belloni per topi perché questa roba qua fa molto peggio e so per certo anche da quello che mi dicono le fans interviste che vedo dei profilisti di fb su youtube che sono tutte radice quadrata diviso 2 diviso 4 so bene i dosaggi che vengono fatti e a mio avviso se li facessi io sarei morto domani mattina che ne pensi del fatto che recentemente o meno mezzo un anno fa il tuo ex collega team comando natalelli abbia fatto coming out questione di visual o era tenuto a farlo ma io guarda ho visto questo video a cuci e spintoni però penso che se lui ha deciso in momento di farlo direi che aveva le sue ragioni sicuramente come la vedi con i fans che magari abbiano sempre pensato che uno fosse un soggetto natural a un certo punto confessa è quasi un tradimento oppure sincerità ma a me viene da ridere quando mi fa cioè non per te cioè se io sono un fan non è che adesso prendiamo ad esempio natan ok che è un mio amico conoscente non è che non apprezzo più natan se mi viene a dire questo tipo di situazione fa coming out fa outing non so come si dica però automaticamente non è che per me decade per me questa cosa è molto stupida penso che sia data anche da una passione molto finta cosa vuol dire io prendo giornale di flex guardo ronny coleman che probabilmente non era drag free probabilmente si è dichiarato natural fino a un certo periodo ecco quindi probabilmente assedisco che non fosse drag free quindi se adesso vengo a sapere che non era drag free per me vale molto meno la mia passione va a togliersi no assolutamente quello sono una finta passione sai cosa se tu ti identifichi sempre in un certo modo o magari non rispondi mai quella domanda una persona magari si illude di poter essere così senza farmaci quando scopre che ha assunto è quasi come un fan che rimane deluso faccio un esempio io sono un atleta agonista testato regolarmente quando capita e giustamente tutti pensano che si possa arrivare a questi livelli drag free come si è dichiarato mettiamo che il domani dica no ragazzi io ho assunto testosterone da sempre ho mentito ho deluso tanta gente che ha creduto in questo sogno mi fa molto piacere questa cosa che tu mi dici perché mi sono preparato una risposta ti spiego questo tu ho visto dei tuoi video tra l'altro complimenti e sei un ottimo accletta tu che fa panca squat ho visto un po un sacco di cose per quanto mi riguarda se non sono esperto del settore però se vinci ha comunque degli ottimi risultati no rispetto alla media chiunque guardando cosa dice domingo quanto fa di squat quando fa di panca quando fa di stacco direbbe non è natural sì me lo dicevano in passato ok perfetto però uno ti crede perché ti crede ti crede perché la tua prestazione è legata al giorno della gara ti faccio questo esempio se io vado in giro che sono 100 kg abbastanza attirato messo bene perché a me non viene mai creduto il fatto che io non possa essere natural perché viene questa voglia di credere a un natural viene a un power a un powerlifter e non a un bodybuilder sai perché perché il bodybuilder porta la sua prestazione in giro 365 giorni all'anno ed è visibile allora io credo assolutamente a domingo indipendentemente dai test sì perché se fai 690 di panca tutti i giorni puzzerebbe strano ovviamente non è tanto quello è che si crede di più a questo tipo di sport che possa essere natural io ho visto dei video nella tua pagina fantastica di donne che sono che mi danno la paga per squat panca e stacco visto delle robe pazzesche di questa ragazza e mani di caro la garra assolutamente sì quindi mi tolgo il cappello davanti a questa persona qualunque persona direbbe che non è natural ma che è un complimento speriamoci chiaro ok però allora perché appena uno ha un braccio un po più grosso no non può essere natural perché la gente non si fa il culo io lo vedo drammaticamente dove vado in palestra e vent'anni fa mentre andare in palestra e ci si faceva il mazzo ora c'è una voglia di avere una capacità di informazione e nessuno si allena più allora diciamo che è un problema nato con i social perché prima i fenomeni rimanevano nascosti no adesso con i social tanti si mostrano tanti fenomeni escono sono sdoganati quindi sembra quasi che ci sia una sorta di inflazione di non voglio fare i nomi domingo ma sono dei team talker che si professano natural che è ovvio che siano natural perché se vado a prendere le mie foto a quell'età sono più grosso ma il fatto che io sono d'accordo con te io tante volte dico no per me è natura e dico sembra quasi che lo sto difendendo se adesso ti vedo dico ha delle forme dei volumi a meno che non è squartatissimo che sono raggiungibili da assolutamente non vedo problemi anche perché io essendo anch'io mi ritengo soggetto portato so cosa ho raggiunto certo dico vabbè mi taro su di me assolutamente poi magari c'è lo scarso che usa solo che ormai vedo tantemente tanti fenomeni in giro per il fatto che c'è questa questa voglia di mostrarsi nei social che la gente pensa è ma tutti sti fenomeni tutti in italia ce l'abbiamo molti dicono in italia abbiamo i peggiori dopati e migliori fenomeni natura c'è questa tutti questi grandi fenomeni in estamente non ne vedo quelli che vengono un po accusati posso citartene alcuni se vuoi che sicuramente hai conosciuto tipo filippo picci so che ecco sicuramente lui non l'ho mai conosciuto dal vivo però lo conosco tramite i social mi hanno comunque spiegato che è una fisicità molto molto interessante potente quindi gli faccio i miei grandi complimenti ma ti accadino sì quanti anni ha questo ragazzo 21 21 22 non lo so adesso nel senso gli faccio i complimenti io a quell'età ero così cosa ne pensi del fatto che molti fanno l'antidoping a vista attraverso una foto non è meglio giudicare una persona dal vivo è una stupidaggine a volte una foto può far sembrare uno più grosso o meno sono delle gente che vedevo al festival del fitness o al fibo che mi hanno dovuto dire chi fosse perché sui social era una persona dal vivo sembrava il figlio brutto morto con la radice quadrata del peso quindi sulle foto siamo tutti bravi io per esempio sono uno scarsissimo di solito la gente quando mi vede dal vivo dice sei meglio dal vivo che in foto ok perché non mi so fare le foto non me ne frega niente non ci guardo non è che guardo la luce perfetta dopo che tu vivi di social cosa di cui non faccio io tu basi la tua vita su quanto like hai o quanti mi piace hai e deve essere la foto perfetta tutta questa voglia che hanno le persone di dire se non è natura o no a me sembra un po' la guardia degli sfigati il fatto è che appunto come i soci hanno sdoganato i fenomeni hanno sdoganato tanta gente che frustrata da tastiera e si permette di insultare di commentare certo se invece di sudare commentare alla domenica andassero in palestra sarebbe più interessante e questo crea anche una certa tossicità nell'ambiente per cui adesso non si può credere più a niente assolutamente sì è anche vero ripeto io non baso il fisico di una persona la mia voglia di credere se lui è una brava persona o no è un meritevole del mio rispetto se si fa o se non si fa cioè noi non siamo in uno stato dove dire che assumi la sostanza e ti faccia stare tranquillo perché comunque vai a perseguire un illecito quindi non vedo per come deve puntare il dito ma dillo 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 cioè io dico sempre non ti piace un personaggio non lo seguire ti piace un personaggio seguilo per come questo personaggio porta quello che vuole davanti alla telecamera perché ricordiamoci tutti che noi siamo davanti alla telecamera quindi siamo attori non penso che noi ci confrontiamo così quando siamo fuori a fare la spesa o giocare con i nostri figli cosa ne pensi del fatto che i fondamentali adesso stiano prendendo una linfa vitale essendo esercizi che si facevano adesso un po di senso i fondamentali sono fondamentali per chi perché la parola fondamentale è molto spartiacque diciamo molti articolari ecco cioè i molti articolari quando servono sicuramente servono e sono oggetto di gara per chi fa dei molti articolari una prestazione come puoi fare te se io devo fare devo eseguire una panca fatta in un certo modo che è la panca piana devo seguire delle regole ma la panca piana è fondamentale per me che faccio una crescita muscolare assolutamente no lo squat è fondamentale nel senso che devo eseguire una crescita muscolare per i quadricipiti assolutamente no a patto che io non sia molto portato non abbia imparato questi multi articolari prima dell'adolescenza tra i 14 e i 16 anni perché se li ho imparati dopo è sempre rincorrere il movimento ok io non capisco chi si incapponisce vedo in palestra me delle situazioni aberranti nel quale queste persone provano a fare questi squat con 10 per lato perfetti non capendo che sono 40 kg vai sotto la pressa fai qualcos'altro non è che vai a ricercare qualcosa che non è tuo non è figlio della tua di quello che hai fatto nella tua vita io sono favorevole l'idea che un novizio un neofita un intermedio debba imparare a coordinarsi quindi multi articolari ti insegna un po a sentire il tuo corpo cosa che un isolamento è una cosa più da avanzato perché devi isolare arrivato a una certa fase come dici tu magari anche avanzata si potrebbe anche limitarli o escluderli esempio io potrei benissimo lavorare con le macchine perché di banca sono bravo a attivare il petto in certo senso però una persona che magari non è brava a isolare un certo muscolo lo metti già alle macchine non impara poi perché con la panca piana isoli il muscolo il petto no essendo multi articolare però se sei bravo sai come attivare il muscolo target ok sì ma non ha senso attivarlo con la panca infatti non si fa solo panca di con la banca la fai come multi articolare se molti dico non mi cresce il petto perché non so far panche passano i manubri perché hanno uno stretch maggiore molte volte un problema tecnico però dici non voglio perdere tempo a fare tre banche a settimana e ci sta tu come mi conoscevi per esempio io ti conoscevo tramite i video youtube youtube e alcune diciamo esternazione di qualche tuo collega quindi erano cose buone o cose negative perché io sai ho un po una reputazione che va tipo un telefono senza fili ti dicono cose assurde su di me altre molto buone non si capisce mai dai video una bella impressione sicuramente mi piace il contenuto che porti mi piace il modo sicuramente sei molto polemico alle volte troppo puntiglioso su alcuni aspetti però questo fa parte del tuo personaggio tu sei questo e fai bene a marcare quel tipo di situazione non so se ti ricordi ma io nel 2016 ero nel tuo gruppo facebook team commando ok tu pubblicasti uno squat se non sbaglio io lo commentai come facevo all'epoca molto ferocemente e fui buttato fuori ottimo non da me mi contattò loris fornaggiare in privato però loro avevano di me già una buona reputazione lui ovviamente immagino facesse powerlifting diceva io ti conosco non capisco come un campione come te si mette a fare il troll il criticone sui social ma fai qualcosa di costruttivo per esempio sembrava quasi un invito ad entrare al team commando come integrazione per i powerlifting e gli risposi guarda grazie dell'invito sono un battitore libero non mi piace stare in un team se non sono il capo certo sono un po il re senza corona io non conoscevo questa storia non mi ricordo sicuramente di video ne ho fatti tanti non sarà stato sicuramente uno squat tecnicamente perfetto sicuramente io li rompevo le balle perché non andava sotto il parallelo magari lo facevi in tensione continua senza scendere ovviamente sì 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 che non è squat è un altro tipo di movimento cioè come la panca che faccio io non è panca piana è un altro esercizio ecco mettiamola così ok te ne racconto un'altra stavo per fare una reaction tempo fa le mie reaction erano schermo sullo sfondo prendevo un tuo video li ho visti lo commentavo ma ti facevo anche limitazione video tuo che mi face ridere per quanto era un po cringe ma divertente di te che eri un po clark and superman c'era tutto questo gioco camminavi sulle scale poi entri in questo palco tutta la gente che sembrava quei video assurdi da super guru e tu dicevi basta mangiare tot al giorno basta allenarsi io volevo fare la scena che io dicevo con la bocca oppure mi stavo allenando e posavo il peso no trovai quel video molto divertente però non ho mai capito questo progetto sfera penso al film la sfera con dustin offman che cavolo si tratta allora è molto semplice le persone invece di commentare basterebbe che leggessero si è scritto in forma senza fitness io mi chiedo che non ha senso però vedi che quanto quanto hype ha fatto c'è tutto tutto questo cioè la gente pensa che mi sono sviato un giorno fatto così io sono pensato due settimane sotto i commenti ci sarà pensato due settimane su questa strontata però a me va bene quindi è un clickbait ma non vuol dire quello che dice e cosa vuol dire in forma senza fitness perché non vuol dire niente allora recentemente non ho mai detto senza allenarsi recentemente non so se conosci c'è il progetto ercole non ho avuto il piacere che praticamente dice vedi jeff bezos che c'è quei fisici no beh non jeff bezos vedi non lo so adesso il mio attore harry cavill harry cavill ha costruito il suo addome facendo questo tipo di allenamento io vi dico come non dovete fare più pesi allenare sembrava molto simile a quello che facevi tu no io l'ho sempre considerati un po di fuffa guru cioè vendono fumo il cliente attratto da questa panacea di tutti i mali compro il servizio poi rimane deluso dopo settimane un po come vanno a marchi diceva lo sciogli pancia basta con questo grasso no ti rivedi in questa descrizione oppure no no e ti spiego molto semplicemente il perché quel tipo di mio progetto non aveva come target un domingo io ho atleti come te non del tuo livello sicuramente però persone che magari fanno anche power bodybuilding anche secondo me non esiste ma è per dare una connotazione ho persone che gareggiano eccetera e applico le metodologie che applico su di me ovviamente ma nel momento che tu vai ad operare su uomini e donne che non sono mai lenate in vita loro e sono hanno più di 40 50 anni tu che cosa gli fai fare ovvio che devi attuare delle metodologie completamente diverse quindi il tuo target erano un po la massaia la casalinga di voghera normali persone normali quelle che vediamo tutti i giorni ma perché perché io ho sempre capito che dobbiamo sdoganare la cultura fisica è inutile giocare a carte tra di noi in una community che è veramente di quattro persone volevo sdoganare questa mia voglia di bodybuilding cultura fisica mettiamola come vogliamo e ci sono fondamentalmente riuscito cioè adesso oggi non ce l'ho qua non perché non ce l'avevo a casa ma ti manderò il mio libro di testimonianze se fosse tutto fuffa quello che si dice non avrei 300 pagine di persone che raccontano alcune cose cose che non vedo dei miei colleghi potrei continuare con tutto quello che ho fatto ma dopo mi scrivo nei commenti non ne ho voglia insomma ecco io lo so e non è assolutamente così quando si sale molto in alto si ricevono tantissime critiche tutto viene visto con la lente di ingrandimento anche a me è successo ogni cosa viene presa con la lente di ingrandimento domingo ho fatto questo tutto sempre esagerato io ricordo sempre le persone che ci guardano che è come se guardassero un film noi siamo davanti alla telecamera quello che avviene dietro la telecamera non è quello che viene davanti e tante persone mi dicono ma tu Filippo mi stai antipatico sei uno stronzo oppure sei simpatico ma io gli rispondo in maniera molto onesta ma tu diresti adesso mi voglio paragonare all'attore che è un genio ma a De Niro che è un pezzo di M perché in quel film ha fatto quella parte probabilmente lo farebbero in incombento ok ma lui è un attore non capiscono che noi siamo su youtube cioè nel senso c'è una telecamera purtroppo le persone pensano che noi siamo uguali davanti alla telecamera come siamo a casa nostra e non è assolutamente così ok quindi molte volte è una parte quella che recitiamo ok ed è giusto anche che sia una parte perché se no non ci sarebbe entertainment io vorrei farlo capire un po' alle persone tutto questo e molto spesso e so che tu non me lo puoi assolutamente confermare ma so che lo pensi posso confermarlo sono uno che dice quello che penso ecco molto spesso le persone che sono più bastarde nei video sono assolutamente più buone e chi sembra che sia il buonissimo samaritano davanti ai video io non parlo perché so tutto di tutti ok e potrei dire qualunque cosa di qualunque youtuber che abbiamo qua davanti nel nostro youtube immaginario ma hanno fatto le cose peggio del mondo e sono quelli che davanti al video vengono visti come i migliori samaritani e non possono assolutamente essere presi di mira dagli haters allora nei social io ho interagito con tanti personaggi e effettivamente sono persone che sembrano molto perbeniste sai come si dice a roma il più pulito c'è la rogna ecco appunto infatti io ho questa capacità di smascherare questo filtro perché vado a punzecchiare quella persona e molte volte loro hanno dei crolli emotivi o hanno dei disagi perché vado a toccare delle cose specialmente quando loro hanno questa patina davanti che posso confermare che tu sei una persona senza filtri gente negli occhi non hai nulla da nascondere almeno quello no ma si vede infatti mi piace come personaggio ho visto dei video che hai fatto recentemente anche con mio marco pt il mio collega e ti ho trovato molto front man hai dominato molto la scena e ho detto se ci fosse stato io sarebbe stato bello il siparietto perché lì era un contesto diverso io posso dirti che ho avuto piacere di farti questa intervista apprezzo il tuo personaggio anche la tua persona per quel poco conosciuto ti ringrazio e penso che potremmo fare anche dei contenuti insieme in futuro magari a sfondo fit se ti va con la panca da bodybuilder si è già spoilerato qualcosa ok quindi ti ringrazio grazie mille ciao domingo siamo giunti alla conclusione di questa intervista io ho avuto un grande piacere felippo ad averti qui spero che ti sia piaciuta sono assolutamente a mio agio quindi perfetto come vedete ragazzi non faccio male a nessuno non mordo quindi se volete essere al suo posto in un eventuale intervista non ci saranno problemi seguite felippo sui social non lo so se si 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 va al canale che vuoi sponsorizzare così no diciamo il mio nome basta e avanza non c'è problema poi tra un po' ci saranno belle novità questo sicuramente comunque se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale lasciate un commento proponete altri video insieme e come sempre un saluto e alla prossima ciao se sei arrivato fino a qui vuol dire che ti è piaciuto questo video perciò metti un like iscriviti al canale e se vuoi essere allenato da me io faccio un coaching online personalizzato con un programma e una supervisione tecnica per vedere tutti i tuoi errori questo tramite sito che poi sarà online a breve oppure puoi iscrivermi nei contatti in descrizione ma soprattutto posso consigliarti la mia integrazione attuale che è con la zec plus dove potete acquistare tutti i prodotti come integratori omega 3 creatina tutte le varie sostanze che io assumo abitualmente con il codice sconto doom 64 sempre quello e potrete avere uno sconto del 10 per cento insomma con questo codice potete avere sconti dappertutto per i migliori servizi sul fitness e non per cui se volete supportarmi comprate i miei servizi o anche i miei prodotti e vi porterò sempre più gente nel canale e sempre video di maggior qualità grazie a tutti